Musica Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Biggio Ben trovati come sempre all'appuntamento con Toscana Oggi parliamo in apertura di giornale questa settimana di immigrati in particolare parliamo dell'accoglienza che viene fatta nelle parrocchie della Toscana proprio per quanto riguarda gli immigrati, i profughi parliamo di corridoi umanitari questo poi lo vedremo nelle pagine interne, nei primi piani in prima pagina segnaliamo però anche altri richiami come quello ad inventario, alla parte culturale del settimanale inventarsi un lavoro con i vecchi mestieri vedremo poi di cosa si tratta poi ancora tra i richiami quindi in evidenza in prima pagina anche quelli che riguardano l'informazione religiosa si parla dell'anno dei giovani, questo 2018 si parla degli appuntamenti per l'unità dei cristiani questa settimana, la settimana di preghiera a pagina 3 troviamo una intervista in cui si parla di scienza e fede è un'intervista con Piero Benvenuti un astrofisico, segretario generale dell'Unione Astronomica Internazionale uno scienziato credente che ci spiega dunque dal suo punto di vista quella che è la nostra situazione, la situazione dell'uomo nell'universo prepariamoci a pensare che non siamo soli, questo ci dice sappiamo per certo che attorno a tutte le stelle ci sono dei sistemi planetari nei prossimi 20 anni potremo analizzare l'atmosfera dei pianeti delle stelle più vicine quindi capire se ci sono delle tracce di vita biologica dicevamo poi in primo piano quindi continuando a sfogliare le pagine settimanali troviamo la questione dell'accoglienza nelle parrocchie si parla di corridoi umanitari che sono di fatto un'alternativa ai barconi si parla però di quello che avviene in modo specifico nelle diocesi della Toscana da questo punto di vista, ad esempio ad Arezzo, Cortona, Sansepolcro dalla cristiana sfuggita alla dittatura, i giovani islamici torturati in Yemen e questo per quanto riguarda l'accoglienza in questa diocesi poi Massa Carrara Pontremoli a Carrara la comunità del Duomo ha risposto sì ha risposto sì all'invito ad accogliere gli immigrati lo stesso per quanto riguarda Firenze dove è stato messo a disposizione un appartamento un appartamento che di recente ha visitato anche il cardinale Giuseppe Betori arcivesco di Firenze appunto e poi per chiudere Volterra progettazione partecipata per Pommarance e Peccioli quindi due località della diocesi volterranea dove le rispettive parrocchie appunto hanno dato vita a delle organizzazioni di accoglienza due comunità parrocchiali si sono rese disponibili e in questo c'è anche il ruolo delle famiglie della parrocchia che svolgono un ruolo cosiddetto da tutor per la cronaca regionale si parla di infrastrutture si parla di viabilità con una pioggia di soldi circa 20 miliardi stanziati qui vanno ad aggiungersi 170 milioni decisi dal Cipe nella sua ultima riunione tanti soldi in arrivo dunque per il sistema stradale ponti, aeroporti in Toscana però parliamo anche di un calvario delle opere pubbliche ci troviamo infatti di fronte a stanziamenti in molti casi per opere in corso e non concluse nonostante si sia ormai alla fine della legislatura troviamo tra le pagine di attualità invece il grido dei giovani cristiani aiutateci a restare a Gaza è un reportage che arriva dalla striscia di Gaza appunto nel territorio alla confine con Israele sappiamo che Gaza è questa sorta di prigione a cielo aperto dove sono stipati milioni di palestinesi dove l'età media è bassissima e in questa occasione c'è stata una visita a parte dell'organizzazione internazionale dei Vescovi tra cui erano presenti rappresentanza dell'Italia il Vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro Monsignor Riccardo Fontana Su Ecclesia la parte di informazione religiosa del nostro settimanale la consueta rubrica risponde il teologo quelle domande dei lettori ai docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale stavolta si parla della resurrezione dei corpi e poi il 2018 anno dei giovani a questo dedichiamo le pagine centrali del settimanale il 2018 infatti vedrà il Sinodo dei Vescovi dedicato proprio ai giovani che sarà in ottobre ma prima ancora ci sarà il pellegrinaggio dei giovani italiani a Roma in agosto il primo incontro nazionale appunto dei giovani italiani con Papa Francesco a Roma un appuntamento dunque che sposta centra l'attenzione della Chiesa sui giovani e sulla necessità come ci dice in questa intervista Don Michele Falabretti responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile c'è la necessità di ringiovanire il volto della Chiesa e dalle pagine di Ecclesia, dall'informazione religiosa passiamo a quelle di carattere culturale, inventario dicevamo, lo avevamo visto in prima pagina il richiamo ai mestieri originali e stravaganti vecchi idee per nuovi bisogni questo è un intervento di Carlo Lapucci esperto di tradizioni popolari che va a rivedere i vecchi mestieri alcuni effettivamente sono persi altri invece possono fornire un'occasione forse un'idea per nuovi mestieri visto che di lavoro c'è sempre più bisogno e poi come sempre le pagine culturali si chiudono con le rubriche dei libri il cinema e la televisione dalle pagine regionali di Toscana oggi passiamo alle pagine locali a partire dalla diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro sulla voce di Arezzo Cortona Sansepolcro si parla delle comunità cristiane in Terra Santa vicini ai cristiani in Terra Santa è il titolo con la visita dell'Arcivescovo Riccardo Fontana nei luoghi sacri è un appello che viene nessun pericolo per i pellegrini l'invito dunque a partecipare ai pellegrinaggi e l'indicazione che ci sono ancora posti disponibili per il viaggio in Terra Santa organizzato dalla diocesi e ancora poi in prima pagina invece gli appuntamenti per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani da Arezzo a Fiesole la parola in prima pagina si parla della celebrazione che c'è stata già della giornata del migrante e del rifugiato si è svolta a Figline Valdarno c'è stato un incontro il tema immigrazione necessaria un'informazione corretta questo è quello che troviamo dunque sulla prima pagina della parola di Fiesole edizione appunto Fiesolana di Toscana Oggi e passiamo a quella di Firenze qui si parla di migranti i timori non diventino paura e odio queste le parole del cardinale Giuseppe Betori durante la messa nella giornata mondiale del migrante del rifugiato la messa che come sempre ha visto una forte presenza di comunità etniche di cristiani giunti a Firenze da varie parti del mondo ancora sulla prima pagina dell'osservatore toscano l'invito a approfittare dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è il momento infatti in questo periodo della scelta dell'iscrizione scolastica per il prossimo anno e quindi anche della scelta se avvalersi o meno dell'ora di religione e poi nelle pagine interne un'ampia intervista a Amedeo Spagnoletto che è il nuovo rabbino capo della comunità ebraica di Firenze è arrivato da pochi mesi a Firenze ma già ha scoperto il valore che in questa città ha il dialogo tra le religioni in questa intervista parla proprio di identità di dialogo di valori condivisi e dice che le religioni sono utili per una società più solida e forte e ribadisce anche come aveva già detto nei giorni scorsi il suo sì alla costruzione di una moschea a Firenze la costruzione di una moschea dice è una buona notizia io non ho paura di quelli che vanno nei luoghi di culto a pregare a Grosseto prima pagina di rinnovamento si parla di anziani e soli cosa fare per agginare questo rischio questo è l'interrogativo poi la risposta nelle pagine interne segnaliamo anche un'altra iniziativa che riguarda la giornata delle migrazioni che si è celebrata a Grosseto con la presenza della comunità ucraina e l'incontro con il visitatore apostolico Monsignor Dionisio su Luca 7 edizione della Diocesi di Lucca dicevamo il 2018 come anno dei giovani per la Chiesa anche la Diocesi di Lucca guarda ai giovani alle speranze e alle paure dei giovani d'oggi su questo si è confrontata l'azione cattolica proprio in vista del sinodo ma altri incontri sono organizzati nei prossimi giorni da parte dell'ufficio di pastorale giovanile della Diocesi e dalle pagine di Lucca quelle della Maremma nello specifico dalla Maremma all'Elba siamo in Diocesi di Massa Marittima Piombino sono tante anche qui gli argomenti richiamati in prima pagina tra cui un nuovo progetto per il castello di Piombino appunto e poi ancora gli echi delle feste delle festività natalizie con la cavalcata dei magi il presepe vivente per l'Efifania questo a massa marittima e poi da Portoferraio una notizia che riguarda la cappella votiva dei caduti della Grande Guerra Su Vita Nova edizione della Diocesi di Pisa si parla della visita pastorale dell'Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto in questa settimana incontra le comunità di Marina di Pisa Tirregna e San Piero a Grado la parola la fede le opere questi i temi al centro della visita dell'Arcivescovo alla Diocesi Pisane ancora poi nelle pagine interne gli appuntamenti della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani un doppio incontro nel palazzo del seminario e tante iniziative poi che coinvolgono tutte le comunità cristiane presenti a Pisa e da Pisa ci spostiamo nuovamente sulle nostre pagine di Diocesane in questo caso siamo sul confronto notiziario della Diocesi di Sovana Pitigliana a Orbetello fra l'altro la Diocesi che comprende anche l'isola del Giglio ed è proprio dal Giglio che arriva la notizia di apertura perché nei giorni scorsi c'è stato l'anniversario il tragico anniversario del naufragio della costa Concordia che tutti ricorderemo sono passati sei anni da quella tragica notte e si parla in questo articolo della verità vera sulla Concordia la verità vera sulla Concordia e soprattutto quello che la popolazione del Giglio ha fatto quella notte per i naufraghi e quello che anche altre realtà che hanno fatto e che sono un po' dimenticate insomma in questo articolo si dice ci sono alcuni personaggi che sono passati direttamente alla ribalta e che ancora sono così nella memoria collettiva però si è forse un po' dimenticati tanti che hanno poi operato concretamente quella notte e hanno fatto sì che il bilancio non fosse ancora più tragico di quello che Giallo è con i suoi 32 morti sull'Araldo Poliziano edizione della diocesi di Montepulciano chiusi e pienza si parla della custodia del creato e del lavoro come parti integranti della pastorale dunque i temi dell'ambiente i temi sociali l'importanza di questi ambiti di evangelizzazione anche all'interno dell'impegno delle comunità cristiane delle parrocchie se ne è parlato a Torrita di Siena durante il corso di formazione alla luce della settimana sociale dei cattolici italiani il grande appuntamento che ha coinvolto un po' tutte le diocesi italiane abbiamo visto come in queste settimane poi l'eco di questo appuntamento appunto della settimana sociale dei cattolici italiani abbia coinvolto un po' in tutte le diocesi un impegno di riflessione e di approfondimento la voce di Prato si apre purtroppo con un lutto la morte di un sacerdote Don Stefano che aveva soltanto 59 anni purtroppo malato da tempo è stato medico anestesista tra l'altro all'ospedale di Prato questa è la notizia in apertura appunto della voce di Prato e da Prato ci spostiamo sulla prima pagina della domenica siamo in diocesi di San Miniato ragazzi marcia per la pace questo è il titolo si parla della marcia che vedrà impegnata l'azione cattolica in particolare la CR l'azione cattolica ragazzi si svolge a Santa Croce domenica 21 gennaio questo appuntamento tradizionale del mese di gennaio in cui l'azione cattolica guarda proprio al tema della pace poi ancora i cori diocesani che si preparano all'annuale rassegna dunque la commissione diocesana di musica sacra della diocese di San Miniato che organizza appunto la consueta rassegna diocesana con tutte le corali presenti sul territorio diocesano anche sulla prima pagina di Siena con le valdezza Montalcino ritroviamo la giornata mondiale dei migranti e del rifugiato anche qui si fa il punto sull'ospitalità a Siena mille rifugiati accolti in diocese questo è un dato molto interessante sono assistiti con la Caritas anche 42 studenti universitari quindi un bel numero ospitato a Siena poi tra i richiami in prima pagina troviamo anche la proroga della mostra su Ambrogio Lorenzetti al Santa Maria della Scala a Siena appunto che è già stata visitata da 35 mila visitatori andiamo sulla voce edizione della diocesi di Pescia la voce di Valdinievole si parla del bagno di folla per la prima messa di Don Gianluca alle case Don Gianluca di Olaiuti appena nominato sacerdote appunto tanta gente ha voluto abbracciarlo in questa celebrazione dalla pagina 2 invece segnaliamo un'iniziativa particolare giovani con il vescovo in discoteca non per ballare evidentemente ma per incontri di dialogo di riflessione di reciproca conoscenza è un'iniziativa organizzata dalla pastorale giovanile della diocesi tre incontri sulle problematiche del mondo giovanile che si svolgeranno in un grande locale della Valdinievole si svolgeranno nel pomeriggio quindi al di fuori dei normali orari di apertura sarà un modo però per coinvolgere i giovani in dialogo con il vescovo in uno dei luoghi di aggregazione dei giovani secondo quel modello di chiesa in uscita tanto caro a Papa Francesco su Vita Puana invece l'edizione della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli una proposta pastorale è quella che riguarda l'organizzazione delle parrocchie della diocesi secondo il sistema delle unità pastorali un'organizzazione dunque che vede più parrocchie unire le forze le energie per mettersi meglio al servizio del territorio in particolare i vicariati di Massa e Carrara hanno ripensato il territorio secondo questo modello il risultato delle commissioni appunto che hanno esaminato tutto questo adesso è nelle mani del Vescovo che potrà prendere le sue decisioni ultima edizione di questa nostra rassegna stampa l'Araldo di Volterra quindi siamo in diocesi appunto di Volterra si parla di una grande festa a fabbrica a una località della diocesi la parrocchia dove ha preso possesso il nuovo parroco Don Tommy Fedeli quindi festa per questo motivo per il nuovo parroco poi ancora dalla prima pagina di Volterra segnaliamo anche qui il calendario degli appuntamenti per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e poi ancora se scorriamo nelle pagine interne troviamo anche qui in dettaglio la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e infine un'iniziativa particolare è quella che si svolge a Montegemoli questa giunta addirittura questa iniziativa alla ventesima edizione ed è il presepiando quindi grande successo anche quest'anno per questa iniziativa che ovviamente come dice il nome stesso riguarda i presepi e questa che arriva dalla diocesi di Volterra era anche la nostra ultima notizia come sempre però per tutti gli aggiornamenti nel corso della settimana è possibile visitare il nostro sito internet www.toscanaoggi.it con aggiornamenti quotidiani con tutte le notizie che arrivano dalle diocesi della Toscana e non solo ma anche dalla società civile e dalle istituzioni che operano in questa regione per il momento è tutto un grazie per l'attenzione e appuntamento come sempre alla prossima settimana a Grazie per la visione!